...parallela, come a Torino, a Arlo, l'Indo in Francia, le strade romane, quindi abbiamo un'asse nord-sud-est-povo. ...parallela, come a Torino, a Torino, a Torino, a Torino, a Torino. ...parallela, come 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 a Torino. una volta c'è giustito il cappetto, si andava a Tarnanti e la loro fine probabilmente in Italia o in Gombarda si avevamo invece a Fosero-Romanico si avevano il dici dicendo che ho praticato la pia del lignino e ho visto il senso di una notte che pure potrebbe arrivare a Ticino d'Oretti e Quattro, poi da un tonno di timido poi rimossa il sorrio e velocezza, faccetta Romani, Neuro-Romanico, Cecchini o Cittanico, non capisciate se vogliono ancora l'incorsione, e ho la scritto per ognuno. Buona teatro, un dato da Giorgio's trailer. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.